Oh, che mi ha contato con qualche crisi ha, per sé. Tu mi sei�� tanto, tu stessi un TOG sholot potente, hai le io steel, ti c'è lo ze for, e cosa dirò che te 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 lo specially. Oh, 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 oh plainte la 1939, che pione so mi malecelità, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.